A preoccupare sono le previsioni. Se si va avanti di questo passo con il continuamento dei casi in Veneto, a metà dicembre ci saranno più di 50.000 positivi al Covid. A dirlo è il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Giuseppe Dalben. Le previsioni sono previsioni che ci fanno stare molto molto attenti. Ecco perché l'invito è quello che dobbiamo veramente tutti aiutarci ad invertire questa tendenza alla crescita della curva dei casi positivi. E quindi ecco l'importanza della terza dose, aderire all'invito della terza dose di vaccino, questa dose booster di richiamo, l'importanza dei comportamenti individuali. Non mi stancherò mai di ripetere dell'importanza della mascherina, dell'importanza del distanziamento sociale, dell'evitare gli assembramenti. Padova, provincia maglia nera, supera i 5.000 casi attualmente positivi. Sono ben 1.795 in più rispetto alla settimana scorsa. Analizzando l'andamento dei ricoveri, Dalben parla di pandemia dei non vaccinati. Lo abbiamo registrato anche questa settimana con la presenza in terapia intensiva di 19 persone tutte non vaccinate. Ecco, questo è un dato che fa pensare. Sono persone giovani che di salute stavano appunto relativamente bene. Il fatto di non essere vaccinati ha portato ad un ricovero in un'area critica molto pesante. C'è anche un bimbo di appena 10 mesi in terapia intensiva e l'adulto più giovane ha 36 anni e non è vaccinato. Ad oggi sono 93 i ricoveri totali. L'ospedale si sta preparando ad aumentare i posti letto, pronta la terapia intensiva del dottor Navalesi, attualmente disponibile per i non-covid, e quella del Sant'Antonio. Anche l'area medica e subintensiva potrebbero essere potenziate con 22 nuovi posti letto al nonno piano del monoblocco. L'azienda ospedaliere invita ad accelerare sulle terze dosi e presto saranno operativi con nuove linee di vaccinazione al padiglione 6 della Fiera. Sono circa 15 linee che apriremo in Fiera, proprio per poter dare a tutti la possibilità di fare questa terza dose di richiamo. Apro e chiudo una parentesi, ma anche chi deve fare una prima dose è benvenuto, che sia ben chiaro. Quindi questa terza dose di richiamo nel più breve tempo possibile. Il 50% dei sanitari ha già ricevuto la dose booster, ma sul fronte opposto pesano le sospensioni del personale Novax, che salgono a 233. Di queste, 211 riguardano infermieri e operatori sociosanitari.